Ciao fanazzurri benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra, ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Il calendario degli impegni del Napoli si sta facendo davvero fitto. Il tecnico Luciano Spalletti non vuole farsi trovare impreparato per il prossimo match del 4 gennaio. I dettagli del programma riportati dal Corriere dello Sport. Napoli, i calciatori non convocati per il Mondiale si ritroveranno già questo mercoledì a Castel Volturno per una prima sgambata. Poi il gruppo partirà per la Turchia, dove rimarrà fino al 12 dicembre, svolgendo almeno due amichevoli ad Antalya. Al rientro in Italia ci sarà una nuova amichevole, con il Villareal, e un'altra della quale ancora non si conoscono avversari a Elocation. Quindi inter-Napoli il 4 gennaio alle 20.45 al Meazza. Ehi fan di Azzurra! Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.